Quando cambiai casa dopo il mio famoso incidente dal ponte che la gente ancora oggi si diverte a ricordarmi cercando di farmi del male, ma male non me lo fate perché non me ne frega un emerito cazzo di quello che è successo mi dispiace solo che i miei genitori non mi hanno mai creduto, comunque io sono ancora vivo mentre gli altri sono tutti morti, questo è il bello Allora, perché da simili altezze nessuno semmai salvato, vi voglio ricordare Allora, no perché poi dicono neanche il Tevere ti ha voluto, ogni tanto mi urlano No, non volevo cadere sul Tevere, infatti non sono caduto nel Tevere, sono caduto sull'asfalto Il punto più pericoloso Mai nessuno è riuscito a salvarsi Ho controllato il giornale giorno dopo giorno attraverso questi ultimi 13 anni